Continuano gli appuntamenti previsti nel cartellone Estate a Gela 2016 promosso dall'assessorato agli eventi del Comune di Gela. Stasera alle ore 21 in Piazza Salandra partirà il Gellas Music Fest. Alle 21.15 domani sera al Teatro Arena Antidoto di Macchitella si aprirà il sipario sul premio Rocco Federico, giunto alla sua quarta edizione. Presenteranno la serata Mari Caricci e Roberta Federico. Tra le sezioni previste i diplomati e laureati eccellenti del 2015 e promozione della cultura e dell'arte. Inoltre i riconoscimenti saranno assegnati per lo sport. Allo stesso orario nella zona Rinascimento sarà di scena la musica folk dell'Associazione Culturale Sergio Di Dio. Fine settimana all'insegna dello sport invece sabato e domenica prossimi a Lido Controcorrente. Dalle 10 alle 22 si disputerà il torneo nazionale di beach volley FIPAV nella forma di King and Queen. Sempre domenica 7 sono in cartellone diversi appuntamenti. Alle 19 Palazzo Pignatelli ospiterà uno spettacolo di musica contemporanea e cabaret dell'Associazione Culturale Giardino delle Muse. Alle 21 al Paradisea Park di Macchitella si terrà la tappa gelese del concorso Ragazza Moda e Spettacolo. Sempre alle 21 a lungomare serata dedicata ai bambini con gli happy events. Allo stesso orario a San Sebastiano l'Associazione Culturale Sergio Di Dio terrà uno spettacolo per gli appassionati di folk. E dalle 21 infine nel cortile esterno dell'ex monastero delle Benedettine gli amici della musica Giuseppe Navarra terranno un concerto per chitarra.